una buonissima serata a tutti voi ben ritrovati innanzitutto grazie per aver deciso anche questa sera puntuale alle 19 di essere qui in mia compagnia ad angoli vi ricordo subito prima di iniziare il nostro appuntamento e soprattutto di conoscere l'ospite che è qui con noi questa sera che potete sempre restare con molta facilità in contatto con la nostra redazione semplicemente inviando una mail al nostro indirizzo di posta che angoli chiocciola espressione tv.it come dicevo un ospite che io amo tantissimo e che ritrovo davvero sempre con tanto piacere quindi ringrazio maria cristina giordano grazie a te per essere qui questa sera grazie ricordiamo ai nostri telespettatori tu sei una consulente d'immagine una personal shopper insomma l'amica ideale tutti prima di uscire insomma chiedere un consiglio a te davvero illuminante e non sei qui a caso questa sera perché pochi giorni fa insomma un matrimonio meraviglioso che tutti abbiamo seguito che ci ha fatto sognare una bellissima sposa un bellissimo sposo ovviamente stiamo parlando della royal wedding questo sarà lo spunto perché siamo anche in periodo di matrimonio in periodo di matrimonio quindi cerchiamo di capire come dobbiamo come dovremmo vestirci e soprattutto come assolutamente non dovremmo vestirci mai esattamente ma prima facciamo qualche bella considerazione su questo royal wedding quindi secondo te subito battuta di apertura la sposa com'era allora la sposa era era molto bella lei una ragazza molto fresca mi è piaciuto molto il vestito però ahimè devo dire che però però sì non era proprio un capolavoro di sartoria come mai perché l'abito faceva un po' pieghe insomma faceva qualche non era proprio non aveva proprio un fitting perfetto come come dovrebbe essere un abito che costa comunque una cifra perché pare che sia costato non so non ci sono tantissime voci si merito 150 200 mila euro quindi capisci che insomma dovrebbe essere un abito di fettucci non sono accettabili non era un capolavoro di sartoria era un abito bellissimo lei è splendida ecco il pezzo forte ti piace lei molto mi piace molto lei è molto informale semplice diversa anche insomma manca il supporto sul pece perché devo fare il segnale che se il segnale non è giusto o io tutto ecco io insomma ormai ripetutamente mi devo scusare con i nostri telespettatori è un'incursione che ormai frequentemente troppo frequentemente accade probabilmente una tv pirata che cerca di inserirsi mi scuso con voi che siete all'ascolto ma soprattutto con te maria cristina guarda con allegria infatti parlando di royale in queste cose non dovrebbero accadere quindi chiudiamo questo spiacevole inconveniente ma torniamo ai nostri sposi meravigliosi bene quindi dicevamo lei costosissimo ma lei non era un capolavoro di semplicità lei è molto bella ecco il pezzo che mi ha veramente incantato era la tiara che portava questa tiara del queen mary della nonna di elisabetta questa meravigliosa tiara era veramente un capolavoro d'alta gioielleria quello è stato una cosa che mi ha veramente incantato tra l'altro lei e vorrei iniziare proprio da questa osservazione era ben poco truccata molto poco e con una pettinatura davvero semplicissima non dico che la mattina possiamo farci questo chignon però non c'era come dire un grande lavoro un raccolto costruito come commenti questa scelta non avevo dubbi che lei avesse scelto qualcosa di molto di molto più fresco quindi meno impostato meno pomposo però non dimentichiamo non dimentichiamoci che anche che il matrimonio di william mckay del 2011 anche lei aveva i capelli erano erano sciolti erano molto semplici quindi ecco dei messaggi anche dalle dalle loro altezze perché poi sono certi principi parliamo quindi di comunque di di scioltezza più di rilassatezza e maria cristina visto che mi citi kate che insomma si è vista in questo matrimonio e tra l'altro sfoggiando un abito già utilizzato quindi la domanda è si può in un matrimonio riutilizzare qualche cosa che abbiamo già messo assolutamente sì nessuno sta scritto da nessuna parte che l'abito debba avere debba essere nuovo di zecca con appena staccato il cartellino assolutamente anzi direi che visto i tempi che corrono visto tempi di crisi e visto anche comunque uno sguardo anche all'ecologia perché no continuare a comprare 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 vestiti poi a un certo punto crea anche insomma una problematica ecologica lei aveva già indossato altre due volte questo abito e anche il cappello l'aveva già indossato l'abito l'aveva indossato alla visita ufficiale in belgio e la forse al battesimo al battesimo della della secondo genita della della piccola della principessa quindi va bene riutilizzare non è un riciclo malvisto no ma da secondo me assolutamente no anzi e poi stiamo parlando di riciclare un alexander mcqueen non un h&m quindi capisci che possiamo permetterci di riutilizzare una cosa quindi questo vuol dire che avere nell'armadio anche dei capi importanti ci consente facilmente magari di riutilizzarli di rivisitare assolutamente anche bravissima rivisitare di cambiare un dettaglio una cosa ci tenevo molto perché molti mi hanno scritto ma come che è terra vestita di bianco il bianco al matrimonio non si mette è vero ma è una regola che è molto più osservata da noi questo bianco no al matrimonio ma nei paesi anglosassoni capita di usarlo a parte che non era bianchissimo ma comunque era un color cipriaco cipriaco proprio bianco però sì loro loro lo usano il bianco matrimonio da noi sarebbe impensabile assolutamente improponibile allora maria chissina facciamo giusto perché ci stai aprendo un focus su un elemento fondamentale il colore allora a quel matrimonio che continuiamo insomma a prendere come spunto perché davvero recentissimo ma soprattutto meraviglioso insomma chi non avrebbe voluto essere lì e vedere insomma l'abbiamo seguito moltissimo ma deve essere stato strepitoso parliamo di colori allora iniziamo dalla regina che aveva questo lime e questo cappello con queste piume non so che erano dei fiori del viola lei era sono colori azzeccati assolutamente sì la regina non sbaglia mai mai regina non per nulla può essere può può piacere può non piacere per carità può essere opinabile ma in fatto di dire scode è molto difficile che nella nella ristocrazia si commettano errori molto difficile poi ripeto accadere poi è una questione di gusto uno può avere buon gusto cattivo gusto però difficilmente loro sbagliano proprio la tipologia di abito per per l'evento io adoro io sono una fan sfegatata della regina elisabetta perché lei è divina quindi davvero god save the queen assolutamente perché perfetta parliamo invece insomma dell'altra faccia della medaglia la mamma della sposa la mamma della sposa mi è piaciuta molto anche lei una donna dolcissima mi ha fatto quasi tenerezza a vederla lì arrivare da sola si capiva che era spaisata perché insomma voglio vedere chiunque un mondo molto diverso dal mondo completamente diverso dal mondo di tutti perché non è il mondo del miliardario che può essere uguale a quello parliamo proprio di aristocrazia di di reali quindi capisci che lei era molto bella indossava questo splendido abito di oscar della renta un verde molto molto chiaro era bellissima mi è piaciuta davvero tanto e allora diamo i consigli alle mamme delle spose come dovrebbero scegliere l'abito insomma per quel giorno certo la mamma della sposa tra l'altro un ruolo molto importante lei che detta legge no in fatto di dress code lei che decide se mettere il cappello oppure no e a cui poi le invitate si devono attenere la mamma della sposa e deve essere sobria insomma niente sandali e quindi scarpe chiuse i colori ecco cominciamo da dire no al bianco e no al nero sarah ferguson era vestita di nero era blu era blu era blu e rosa sarah ferguson quindi non era nero non c'era nessuno vestito di nero vittoria beckham era blu scuro vittoria era blu molto scuro con delle grandi scarpe rosse con delle scarpe molto english molto british come gusto si poi aveva come accessorio meraviglioso questo marito insomma perdonateci ma insomma chi non l'ha guardato esatto stupore che però indossava gli abili pantaloni erano un po troppo attillati se proprio proprio sempre critica ma è il tuo ruolo aveva questo splendido lui meraviglioso in questo tight però io avrei preferito un pantalone un pochino più un po più morbido torniamo invece all'outfit della mamma della sposa si stavo dicendo appunto è molto importante comunque che sia che sia sobrio e no assoluto al bianco e no assoluto al nero io ho sentito dire in sente dire in giro che anche nei negozi che ti dicono nome ma il nero è stato sdoganato ai matrimoni no no categorico no il nero al matrimonio non si mette neppure accessoriato allora no esiste addirittura la regola dei puristi io vabbè quelli che ti insegnano quando vai a scuola io ho studiato pronto per fare la consulente d'immagine che dicono che per il dress code nel nero nel bianco debba superare il 40 per cento dell'outfit quindi pensa Dolores quanto siamo quindi assolutamente no non si l'accessorio va bene la scarpa la borsa un piccolo dettaglio va bene però ridotto al minimo ridotto al minimo ridotto al minimo quindi però partiamo anche dalla sposa allora l'abbiamo vista l'abbiamo commentata e soprattutto l'abbiamo amata e credo continueremo ad amarla moltissimo stiamo insomma in attesa dei suoi outfit per le varie occasioni che verranno ma diamo un consiglio visto che siamo quasi anche in chiusura di questa chiacchierata alle nostre spose come in che modo devono scegliere l'abito giusto l'abito giusto deve essere allora innanzitutto deve essere l'abito che a partire del nostro stile non l'abito copiato l'abito visto deve essere l'abito che ci fa sentire veramente delle principesse perché tutti abbiamo diritto a essere una principessa almeno per quel giorno quindi deve essere questo deve esaltare il nostro fisico quindi non deve essere un abito che ci mortifica bisogna fare molto attenzione al punto vita alle spalle quindi cercare di stringerci a tutti i costi non dobbiamo stringerci perché se in molti casi il punto vita non è molto definito quindi non fa niente sceglieremo un abito dritto quindi non per non per forza esistono dei modelli che debbano essere ecco e quelli usati a tutti i costi ognuno deve avere la sua giusta la giusta foggia proprio per quella che ci valorizza sempre di più e il colore beh il colore sai qui ci sarebbe da parlare per dieci puntate ma il consiglio qual è il consiglio beh ovviamente a seconda della tipologia o il bianco o l'avorio a seconda proprio del colore donante perché c'è chi sta bene col bianco e c'è chi sta bene con l'avorio chi vuole mettere anche colori estrosi se la personalità lo permette ci sono state spose magnifiche per il salore dana bertè vestita di rosso quindi va bene ma può usare certo in estate più in inverno ma quando vogliamo l'importante che siamo noi a indossare l'abito e non l'abito che porta in giro noi questa è una regola che vale un po un po per tutto sempre sempre maria cristina io detesto la fine delle nostre conversazioni ma ti invito a tornare perché tra poco arriva l'estate e so che dobbiamo parlare molto quindi ci rivedremo parleremo di mare parleremo di spiaggia come ci si veste soprattutto di come non ci si sveste soprattutto come non ci si sveste grazie maria cristina giordano grazie a voi grazie a tutti grazie grazie anche a voi perché tra poco torniamo quindi rimanete lì cambiamo argomento torna angoli